Il fisco mette le ruote per la dichiarazione precompilata. Torna a Catanzaro il camper dell'Agenzia delle Entrate. Una sosta, quella delle camper, per fornire informazioni d'assistenza sulla dichiarazione precompilata. La struttura mobile sarà presente a Catanzaro in Piazza Luigi Rossi il 12 maggio dalle ore 9 alle 18 ed il 13 maggio dalle 9 alle 14. Accanto ai normali canali di assistenza per il secondo anno consecutivo, quindi, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti l'ufficio mobile del progetto Il Fisco mette le ruote, dove sarà possibile ricevere tutte le informazioni sulla dichiarazione precompilata arricchita quest'anno dal modello unico. Ai contribuenti che faranno visita al camper saranno illustrate le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata e di termini entro cui modificarla ed inviarla. Tutti i contribuenti interessati potranno inoltre richiedere informazioni relative ad abilitazioni ai servizi telematici, consultazione delle quotazioni immobiliari, comunicazioni di irregolarità ed iscrizioni a ruolo, registrazione dei contratti di locazione, rilascio di codici fiscali e partite IVA, richiesta di duplicato della tessera sanitaria, successioni e donazioni e rimborsi. Il camper ospiterà inoltre un esperto della lingua dei segni LIS dell'ente nazionale Sordi per coadiuvare i non udenti nel pomeriggio delle 12 maggio dalle ore 16 alle 18. Ai nostri microfoni spiega novità, vantaggi, oneri e spese della dichiarazione precompilata. Il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, Giuseppe Bonanno. Direttore Bonanno, torna il fisco, mette le ruote per la dichiarazione precompilata, il camper dell'Agenzia delle Entrate a Catanzaro il 12 e il 13 maggio. Quali informazioni per la popolazione? Innanzitutto questa è un'iniziativa che ormai da oltre un decennio l'Agenzia delle Entrate ha sviluppato e che porta in tutte le città, a volte anche nei centri più piccoli, per far sentire ancora di più la vicinanza del fisco ai cittadini e dare quei servizi che ormai ordinariamente sono disponibili non solo presso gli uffici territoriali dell'Agenzia, ma anche ormai online. Il fisco mette le ruote è un modo di essere ancora più vicini ai cittadini attraverso una serie di servizi che i nostri funzionari offriranno, sono numerosi, anche in considerazione del fatto che ormai con la precompilata che è partita adesso il 2 maggio, la possibilità di poter trasmettere direttamente la dichiarazione precompilata 7.30 e il 9 invece per l'unico, il 9 di maggio, e la possibilità di avere tutte le informazioni sia sulla precompilata che anche su altri servizi, registrare per esempio un contratto di locazione, avere informazioni su dichiarazioni di successione, su come fare a eventualmente presentarla, richiedere l'abilitazione per l'accesso a fisco online, che è la modalità web che consente poi di trasmettere la dichiarazione e di avere una serie di servizi. Insomma, noi abbiamo ancora quest'anno ripetuto l'evento, lo facciamo molto volentieri, grazie anche alla disponibilità, devo dirlo, dell'amministrazione comunale, del sindaco Abramo che ci ha messo a disposizione il posto, saremo in piazza cosiddetta prefettura qui a Catanzaro e anche alla disponibilità dell'amministrazione provinciale che ci ha supportato con altri servizi logistici. I cittadini potranno accedere il 12 e il 13, dalle 9 alle 18 e dalle 9 alle 14, per quanto riguarda la possibilità, il 13, di avere tutti i servizi disponibili, è un ufficio mobile ma è un ufficio a tutti gli effetti, quindi anche se qualcuno ha una cartella di pagamento o qualcosa che riguarda il ruolo, ripeto, anche la possibilità di registrare un contratto di locazione, questo lo può fare tranquillamente presso il nostro camper dove i nostri funzionari sono assolutamente a disposizione.